Il mio lavoro mi costringe a vedere sempre la parte più negativa, fare la mappatura dei rischi, cioè guardare quali sono i rischi peggiori, ma non voglio fare sempre quella negativa, ma le difficoltà noi le abbiamo quando ci succedono gli imprevisti e quindi è per questo che mi sono costretta a fare i conti con quelle che possono essere le eventualità nella vita. Poi chiaramente se le cose invece vanno bene siamo tutti felici, ma se abbiamo previsto tutto bene prima, se le cose vanno bene vanno comunque bene, se le cose non vanno bene sappiamo come muoverci, questo è importante, quindi l'educazione finanziaria è alla base.